Il tuo ruolo è centrale, giusto? Puoi spiegare cosa vuol dire questo ruolo magari alle persone che non lo sanno? È difficile spiegarlo? No, non è difficile. Il ruolo centrale è un po' più, credo, un pochino più di sacrificio, un po' come il mediano nel calcio, nel senso che fa molto lavoro sporco. Come la canzone di Capu, una vita da mediano. Esatto, più o meno è la stessa filosofia. Può dire che Valentina Righetti negli ultimi anni sia l'azzurra che ha fatto il salto di qualità più grande? Il più grande? Non penso più grande, ho fatto un bel salto di qualità e posso fare ancora qualcosa, parecchio, però sono contento. A Genova torni spesso, la frequenti, nonostante tutti i tuoi impegni? Appena posso, sì, mi abitano a Genova, quindi quando posso ritornare a casa lo faccio con il tira, sono una genovese molto appassionata. Il soprannome Pischia è ormai ora di mandarlo in archivio, per questo andava bene quando eri veramente una Pischia del Club Italia, adesso non sembra più tanto adatto. Ma infatti ormai Pischia non mi chiama più quasi nessuno, però comunque è una parte di me, se qualcuno mi chiama Pischia, comunque mi fa piacere. Ormai mi sento più Valentina. Puoi? Grazie a tutti.